Siamo al Mico di Milano, alla seconda giornata del Salone del Risparmio. Oggi ci è venuto a trovare Andrea Randone, responsabile Mid e Small Cap di Intermonte. Con lui parleremo di PIR, i piani individuali di risparmio che, a determinate condizioni, offrono dei vantaggi fiscali ai risparmiatori. Randone, dopo un periodo di grande euforia i PIR sono stati quasi dimenticati a causa di una modifica normativa, ma a gennaio 2020 c'è stato un ritorno al passato che ha rivitalizzato il settore. Ora, come vede il futuro dei PIR? Grazie, ma come diceva giustamente lei, c'è stato questo impasto normativo, ma dall'anno scorso la legge è tornata a funzionare nella direzione giusta. Certo non è stato facile nel tempo di Covid far partire dei nuovi clienti e le reti dei vari fondi hanno avuto dei rallentamenti. Adesso pensiamo, e lo stiamo vedendo dai dati, che ci possa essere un nuovo slancio, anche con la fase un po' di riapertura. Ma non è soltanto questo. Il governo Draghi e il piano di recovery sono delle notizie importanti che la gente sta recependo. Nello stesso tempo la borsa ha fatto bene da inizio anno e questo lascia la sensazione che ci si possa guadagnare, che ci siano delle belle opportunità. La ripresa dei PIR potrebbe avere un impatto positivo sul mondo delle small e mid cap? Senz'altro. Innanzitutto è proprio di oggi il dato che ha fornito a suggestioni sull'impatto che i fondi PIR hanno avuto nella raccolta delle IPO di questi ultimi anni, soprattutto di quelle di società piccole che si sono quotate all'AIM un ruolo davvero da protagonisti. Questo dovrebbe continuare ad aumentare con l'apporto che dovrebbe arrivare anche dai PIR alternativi, che sapete è un prodotto complementare a quello dei PIR e che hanno già raccolto 650 milioni di euro nella prima metà dell'anno. Questi due prodotti si rivolgono quindi a un universo investibile che Banca d'Italia a gennaio ha stimato in 2.200 società quotabili in Italia. Quindi da un lato abbiamo i risparmi che possono arrivare nei PIR, dall'altro le società quotabili. Credo che la strada davanti sia davvero molto interessante. Grazie 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 Grazie